ciao sono valentina e oggi come avete visto dall'anteprima voglio parlarvi di cioccolata nello specifico fondente e soprattutto dirvi i suoi benefici e penso non vediamo l'ora di ascoltarli perché così sappiamo che anche se mangiamo un qualcosa di godereccio che potrebbe far male no ha tanti benefici e ora ve ne svelerò ben 10 prima di tutto abbassa la pressione arteriosa e ha effetto cardioprotettivo quindi in parole spicciole fa bene al cuore in tutti i sensi 2 riduce i livelli del colesterolo cattivo nel sangue perché cattivo perché il colesterolo da quel che so premetto non sono nessuno nel campo non sono una dietista dietologa eccetera eccetera ci tengo sempre a specificarlo in questo genere di video perché se mi piace darvi delle informazioni che vado a cercare un po di qua un po di là però ovviamente vado anche a cercare notizie che siano veritiere perché sennò non ha senso che io faccia dei video informativi per cosa ma ci tengo a dire che non sono nessuno quindi quando si tratta di salute vediamo anche di ascoltare il nostro medico importantissimo e proseguiamo vi posso anche dare la sigla anche se non so di cosa si tratta di questo tipo di colesterolo ldl così sicuramente è tutto più chiaro numero 3 ora che lo sentirete potrà sembrare un attimo un controsenso però è molto di aiuto nel diabete di tipo 2 e in questa informazione tra parentesi c'era scritto senza zuccheri aggiunti 4 ed è il punto secondo me che un po tutte conosciamo o in qualche modo sappiamo che serve a quello di cosa sto parlando di antistress la cioccolata fondente mi raccomando sto parlando soltanto di fondente adesso non chiedetemi la percentuale comunque fondente agisce proprio come antistress stimolando la produzione di serotonina numero 5 e questo è un beneficio che va preso molto con le pinze molto delicatamente aiuta nella prevenzione di alcune malattie oncologiche 6 al suo interno la cioccolata fondente ha un elevato contenuto di antiossidanti quindi anche qua in parole spicciole viene la nostra vecchiaia ma non de bella le ruge purtroppo non ancora chissà in futuro numero 7 ed è un punto che secondo me soprattutto a noi donne o amanti della linea saranno contenti di sapere favorisce il senso di sazietà quindi mangiamoci un pezzettino di cioccolata fondente e così ci possiamo sentire un pochettino più sazia anche se non abbiamo mangiato tanto e ci manteniamo anche in linea nonostante mangiamo un dolcino ci togliamo lo sfizio e questo grazie alla presenza di fibre all'interno della composizione della cioccolata 8 questo penso sia un punto che da quella felicità quella speranza ed è il fatto che previene patologie neurodegenerative come l'alzheimer 9 per chi pratica sport qualsiasi esso sia riduce l'affaticamento muscolare proprio durante l'allenamento sportivo decimo beneficio e questo è molto molto interessante è il fatto che favorisce il benessere intestinale equilibrando la flora batterica come avete potuto ascoltare i benefici della cioccolata fondente del cioccolato fondente sono molto legati alla nostra salute al nostro benessere quindi visto che penso che la maggior parte di noi se non tutti adoriamo la cioccolata ogni volta che andremo a mangiarla possiamo pensare a tutte queste cose favorevoli rivolte nei nostri confronti saremo sicuramente molto più felici di mangiarci un pezzettino di cioccolato magari come snack come fine pasto senza ovviamente esagerare perché se ci mangiamo la barretta intera allora lì forse non si creeranno dei benefici neanche uno di tutti questi ma anzi stiamo moderati con le porzioni però sappiate che ingerendo la cioccolata avremo molti molti benefici quindi direi grazie cioccolata adesso ho preso questa perché quella che avevo in casa non è un video sponsorizzato niente di che quindi non fate caso al marchio va bene qualsiasi tipo di cioccolata purché sia fondente ci tengo a precisarlo perché ovviamente se andiamo sul cioccolato bianco su quello al latte su tutte le varianti che ci sono in giro no non credo ci siano molti benefici forse neanche uno di tutti quelli che vi ho elencato quindi attenzione spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia intrattenuto se così spolliciate iscrivetevi al canale attivate la campanellina se vi fa piacere ricevere le notifiche ai prossimi video che realizzerò io vi do un bacio enorme ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao